Amici della bellezza bentornati nella rubrica di arte. In questo video tratteremo un'opera chiave della parabola artistica di Umberto Boccioni, La città che sale. Ma facciamo un breve passo indietro. Era il 20 febbraio del 1909 e sulle pagine di Le Figaro, uno dei quotidiani della borghesia francese, tutt'oggi tra i più autorevoli, comparve un articolo manifesto firmato da Filippo Tommaso Marinetti dal titolo Le Futurisme. Ripercorriamo alcune parti di questo scritto, che sancisce in maniera ufficiale la nascita del futurismo italiano e leggiamo. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine, l'energia, la temerità. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano d'orno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo è più bello della vittoria di Samotracia. Noi vogliamo glorificare la guerra, sole gene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie. È dall'Italia che noi lanciamo nel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d'archeologi, ciceroni e d'antiquari. Musei cimiteri, musei dormitori pubblici, musei assurdi macelli di pittori e scultori. Rileggere queste parole forti, pesanti, è importante per cercare di comprendere il messaggio del futurismo. E a questo punto mi collego dal punto di vista artistico al ragionamento che Benedetto Croce esprime in un suo libro che si intitola La mia filosofia. Croce parlava di una decadenza del sentimento storico e di un risoluto antistoricismo che si presenta in due modi opposti, ma dalla comune origine, più o meno presso ogni popolo d'Europa. Il primo riguarda un sentimento rivoluzionario, proprio questa manifestazione avvenuta in Italia, appunto il futurismo, che idoleggia un futuro senza passato, un sentimento ardente che si fa sempre più cieco. Ad ora, come abbiamo visto, la forza per la forza e il nuovo per il nuovo al quale non giova un legame con il passato, ma vuole essere vita per la vita, ma vita in astratto, vuota forma del vivere. Il secondo, invece, condanna l'idea stessa di storia come qualcosa di mobile, di vario e aspira a trarsi fuori dalla storia. Entrambi i modi sgorgano dalla stessa fonte, ovvero dal rigetto della storicità. Il problema che si pone adesso è se questo antistoricismo aveva o no qualche contenuto positivo e se in questa assurdità delle parole si annidava un seme di verità e se quel distruggere voleva operare insieme un costruire di qualcosa di nuovo e autentico. E Croce, quell'antistoricismo, lo inquadrò come un, non un simbolo negativo, ma come un impoverimento mentale e morale. Certamente non si può dire lo stesso dell'ambiente artistico, non c'è alcuna infernità e non c'è nessuna povertà mentale. Questa iconoclastia futurista non era affatto estesa a tutti gli artisti e, ad esempio, appunto, osservando la vita artistica di Umberto Boccioni si può notare che l'esperienza fatta in campo futurista dal pittore Regino non si può spiegare se non in funzione di quel processo di incessante verifica fra naturalismo e divisionismo. E nella sua emblematica opera, La città che sale, unisce molteplici spunti derivati dall'opera di Giacomo Balla e in particolare La giornata dell'operaio, ma anche altri spunti quali da Previati, Romolo Romani, in una prefigurazione tutta italiana dello stile futurista. Il futurismo dunque, in particolar modo, in Boccioni sembra essere un movimento globale per antonomasia, una estetica anarchica al servizio di una pittura ricca di suggestioni, a differenza di quello che nelle parole viene pronunciato. Il discorso delle periferie si comincia a delineare in maniera più marcata nella pittura di Boccioni, fra il 1910 e il 1911, e l'opera simbolo è quella appunto che state vedendo, è simbolicamente nata come organismo vivente e in un crescere travolgente, avvolgente, che il pittore individua anche nella figura del cavallo, inteso romanticamente come principio vitale di energia. Proprio in questo senso la città che sale, a ragione della sua data di creazione, ma anche come simbolo di quell'essere suberante, dinamico, di vitalità del mondo moderno, si rivela opera introduttiva al futurismo. Inoltre, essendo simbolo del progresso questo vitalismo, emerge dall'opera una tematica e un linguaggio vittorico ispirati al mito del progresso della vita moderna e dell'industria e trova una piena sintonia con quei manifesti. Continuando sul piano linguistico, questa è un'opera significativa in quanto documenta come la prima fase del futurismo si pone culturalmente fra divisionismo, simbolismo ed espressionismo, con la centralità di Previati. E proprio grazie a quest'ultimo, grazie alla sua pittura cromaticamente scintillante che dà il là a Boccioni per poter accrescere l'esperienza di visionista e di rifiorire espressionisticamente il velocizzato ritmo del vivere moderno, con forte tensione emotiva che si nota nel dipinto attraverso tocchi di pennellata filamentosa che si avvita in una sorta di vortice e che permea ambiente e figure in un'originale visione sgretolata. Inoltre, da Previati, Boccioni deriva forma e colore come stato d'animo, e la città che sale è indicativa sia dal punto di vista ideologico sia in termini linguistici. Nel principio del moto assoluto, inteso come energia latente dei corpi, con una marcata accentuazione dei sensi, che manca ad esempio in Bergson, si condensa la filosofia di Boccioni. Ogni corpo si muove, inteso sia in movimento che in stato di quete, in quanto parte di un dinamismo universale, di una realtà che non è statica, ma di un continuo divenire nello spazio, dove spazio e tempo sono strettamente correlati. E Boccioni stesso sostiene che si tratta della sintesi di quello che si ricorda e di quello che si vede. Da Bergson, Boccioni deriva il concetto di durata. Nel futurismo di Boccioni si assiste a quella duplice serie motivata dall'intento di drammatizzare un aspetto della vita moderna, la raffigurazione convulsa di una nuova condizione dell'individuo, tra angoscia e concitazione, davanti all'avanzare della modernità. Un sentimento simile sembra ripetersi oggi nella nostra società, sebbene in modalità diverse, ma che nel nucleo ha la stessa sostanza. Boccioni nelle sue opere più tarde sembra ripensare a una considerazione continua del fatto che non può esistere una cancellazione del mondo passato, della memoria negli uomini, così come degli artisti. Boccioni sa benissimo di appartenere alla storia e questa storia, la sua, si chiama Previati, Segantini, Rosso e ancora si chiama Rembrandt, Goya, Munch, Picasso, Monet e Cézanne. Ripercorrendo la filosofia crociana nel percorso artistico di Boccioni, è bene ricordare queste parole pronunciate dall'artista stesso nei primi anni dieci. Sento un impeto irresistibile per una vita d'ordine e lavoro titanico, costruire, costruire, creare. Da queste parole si evince la sua personalità romantica, dell'artista superuomo, ma non a livello di Marinetti. Ecco adesso dove collochiamo Boccioni in base alla divisione crociana. In nessuno dei due modi. Se Marinetti si definiva il figlio di se stesso, moltissimi vittori militanti nel suo movimento non hanno alcuna voglia di rompere con il passato e di cancellarlo. Boccioni e compagni sanno benissimo che artisti come Goya, Rembrandt, Previati, Segantini, Rosso, rappresentavano dei valori che non potevano non essere preservati. Dunque non vi era alcuna pretesa di demolizione assoluta della storia, del passato e dei valori in questi artisti. La storia di Boccioni è un esempio magistrale di questa ricchezza mentale che contrasta con quel futurismo distruttivo, con quelle parole del manifesto letto poc'anzi. Boccioni muore giovanissimo nel 1916 a causa di una caduta da cavallo durante un'esercitazione militare. Gli artisti che sopravvivono alla guerra non hanno più quell'energia di prima e prevale nei futuristi un rappello all'ordre, quasi come conseguenza di un senso di colpa per aver incitato alla violenza e a quell'allucinante frenesia che aveva portato alla guerra mondiale. E così il futurismo si spegne almeno nella versione più drastica e tornerà in vita in maniera ridimensionata negli anni 20 e 30. Abbiamo visto come Boccioni e altri artisti futuristi sapevano che la libertà era il sentimento chiave della loro vita e delle loro opere e soprattutto che non potevano distruggere il passato, un passato che ancora oggi, che da sempre, narra la conquista quotidiana della libertà ed essa vive nella memoria e Boccioni con il suo sentimento storico che si fa sempre più vivo e ritorna nella sua poetica più spesso tradisce appunto quelle parole del manifesto. La prima guerra mondiale ha fatto comunque emergere più in generale le contraddizioni ideologiche di questo movimento. Giunti al termine di questo breve viaggio nel mondo dell'arte è arrivato il momento di salutarci. Grazie per avermi seguito e buona arte a tutti!